Antonella Clerici non parla troppo spesso di sé né ci regala foto private e personali. La conduttrice in un tweet ha quindi criticato l'esibizionismo mediatico di tanti personaggi noti del mondo dello spettacolo, così come il gossip fine a se stesso frequentemente generato proprio dai selfie e dalle foto che Vip e Showgirl pubblicano sui propri account personali dei social network. Forse sarò antiquata, scrive la conduttrice su Twitter, ma mi fanno tristezza i selfie inutili, l'ossessione per la forma fisica, il gossip sulle nullità. Meglio una bella e grassa risata, una riflessione dunque più che una critica e un invito a pensare ad altro e a prendere la vita con leggerezza.